Un contributo da 500.000 euro è stato stanziato dalla regione Sicilia per realizzare un muro di contenimento all'altezza del chilometro 7 più 500 della strada provinciale numero 6 nel territorio di Villa Rose per il ripristino del manto stradale. La provinciale numero 6 è molto trafficata da diverso tempo a causa del numero di veicoli che vi si riversa per via della chiusura della statale 290 a causa di alcune frane. I lavori prevedono la realizzazione di una struttura in cemento armato che assicuri la stabilità del versante e gli interventi di regimazione delle acque per evitare che le infiltrazioni possano determinare ulteriori fenomeni di erosione. Il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci nell'esprimere la propria soddisfazione ha spiegato che il governo regionale lavora costantemente al miglioramento del sistema viario siciliano.